video numero 78 35esimo sul raggiungimento degli obiettivi come identificare le attività per raggiungere il proprio obiettivo oggi voglio mostrarvi un esempio di come implementare un programma di allenamento di self coaching immaginiamo che gli obiettivi riguardino l'area della gestione del tempo una volta definito l'obiettivo sarà importante individuare un certo quantitativo di azioni o di attività possibili che ritengo di poter svolgere e che a mio parere possono consentirmi di raggiungere quell'obiettivo per questa fase avrò risposta alla seguente domanda quale attività o azioni potrei svolgere per raggiungere quel determinato obiettivo lo scopo di questa domanda è quella di identificare un quantitativo sufficientemente ampio di azioni praticabili ipotizziamo che abbia indicato non uno ma due obiettivi ed una serie di azioni potenziali da svolgere per ognuno di loro obiettivo numero uno voglio essere capace di svolgere prioritariamente le attività più stressanti ed impegnative e per ultime quelle rutinarie ma necessarie quale attività specifiche potrei svolgere beh inizierei mettendo per iscritto l'elenco delle attività cosa che farei la sera prima così come la sera prima potrei creare due quadranti mettendo da una parte l'elenco delle attività stressanti ed importanti e dall'altra quelle facili ma soprattutto la mattina inizierei la giornata in maniera energica come se non ci fosse null'altro da fare se non quelle attività importantissime ed impegnative obiettivo numero due voglio ridurre del 30 per cento l'elenco delle attività incompiute e che vanno ad aggiungersi a quelle del giorno successivo quali azioni o attività specifiche potrei svolgere per esempio anche qui definisco in anticipo e metto per iscritto l'elenco delle attività da svolgere secondo verifico a fine giornata l'elenco delle attività incompiute e le misure in termini percentuali analizzo se alcune di queste attività potevano essere delegate controllo se tutte le attività che ho svolto durante la giornata erano assolutamente necessarie e non potevo farne assolutamente a meno osservo se ci sono delle attività per le quali ho impiegato più tempo del necessario affinché possa individuarne la causa e rimuoverla alla volta successiva esamino quante attività impreviste si sono aggiunte durante la giornata e che non avevo pianificato ovviamente come anticipato in premessa i due obiettivi sono semplicemente degli esempi così come l'elenco delle attività da svolgere perché queste sono frutto della creatività di ognuno di noi per oggi ho terminato e mi auguro che il video possa esserti utile ci vediamo dopo domani ciao